Ciao, sono Ornella da Ricello di Gioletta e Fornelli e ho cucinato con lo chef Ciccio Sultano il couscous di verdure con pollo. Perfetto, il mio pollo ha fatto un'ottima scelta. Grazie. Noi chef, la ricetta è facile. Se c'è un commi come me, poi è facilissima la ricetta. Allora, l'unica cosa che serve è un carretto siciliano con tutti questi... Se vi è piaciuta la mia ricetta, votatevi. Ciao! Ciao, sono Andrea del blog Different Taste e ho avuto l'opportunità di preparare con lo chef Lucio Pompili il brodetto di collina al profumo di primavera. Ce ne metti di energia a tagliare sto pesce, eh? Si vuole. Adesso questo mi raccomando, è una roba delicata. Votatemi, votatemi e rivotatemi.